La consapevolezza è che l'Italia nel contesto europeo continua ad acquisire centralità e protagonismo. Non era un risultato scontato al momento dell'insediamento del governo, con tante cornacchie svolazzanti che dicevano tutto il contrario. Io sono convinto che il vicepresidente della Commissione, Raffaele Fitto, appena confermato, sarà un grande risultato non solo per l'Unione, ma in modo particolare per l'Italia e quindi per tutte le forze politiche, perché avremo un presidio che conosce le esigenze reali del territorio nazionale e lavorerà perché queste legittime esigenze possano essere tutelate. Noi oggi viviamo un'Europa particolarmente fragile, un'Europa che paga le distrazioni del passato anche nel non aver voluto una forza armata preposta alla difesa dei confini del continente, le insidie che arrivano dal Medio e Vicino Oriente sono assolutamente indecifrabili nella loro evoluzione e quindi la certezza che la Presidente von der Leyen e soprattutto la presenza di un vicepresidente e commissario per noi costituiscono le premesse per guardare avanti con obiettivo ottimismo.